Musica Musica Benvenuti dietro le quinte in questa puntata vicini di casa, regia di Antonio Zavattieri in scena al Teatro Radar per la stagione bagliore di Teatri di Bari. Teatro Comunale di Putignano, siamo qui ad una replica di uno spettacolo splendido, ci hanno già detto, che è bellissimo, ci si diverte, ma ha un ritmo perfetto. Stiamo parlando di vicini di casa, facciamo una chiacchierata con i protagonisti. Innanzitutto Amanda, com'è impostato questo personaggio? Anna e Giulio, coppia che sta insieme da tanti anni, con una figlia in crisi, insomma in crisi, quanto stanca, stanca e con pochissimi rapporti, non si toccano, non si... Insomma, e questi vicini di casa, molto invece vivaci sessualmente, che fanno molto rumore, e l'incipit dello spettacolo è che appunto io, Anna, decide di invitare questi vicini. A mio parere non ha un piano preciso, semplicemente vorrebbe che qualcosa accadesse, che chissà, che per osmosi qualcosa di questa allegria e vivacità si trasferisse a loro. E ecco, e quindi Anna nella coppia è sicuramente quella più aperta, ed è un po' di questo che parla lo spettacolo, cioè di quanto sia poco, come dire, conveniente chiudersi. Parliamo adesso subito con Gigio. Allora, com'è questo marito un po' burbero, diciamo? È uno che non ha tanta voglia di aprirsi, probabilmente non è soddisfattissimo della sua vita né matrimoniale né professionale, e quindi sviluppa un po' di acidino nei confronti dell'esterno. Però, da un altro punto di vista, è quello con i piedi più per terra di tutti, insomma. Perché è vero che uno è chiuso, eccetera, ma se uno prova a pensare che ti arriva in casa una coppia e pian pianino ti chiede di fare sesso con loro, non è proprio, diciamo, una cosa dove uno va così liscio. Dei problemi nascono, ecco, per cui è terreno, ecco, è concreto. E adesso passiamo alla coppia del piano di sopra, giusto? Qual è la scena? Come funziona? Voi arrivate, bussate, qual è la scena in cui vi presentate? Che cosa accade? Accade che durante la piacevole conversazione, in cui inizialmente si nota che questa coppia del primo piano ha un po' di sapori, piano piano introduciamo l'argomento. Chiaramente siamo venuti un po' apposta noi per sondare il terreno, però lo facciamo con la proposta, diciamo, di cui non, vabbè, si è capito ormai, e la facciamo con delicatezza, con educazione, con ingenuità anche, perché poi loro non hanno secondi fini se non fare quello che più a loro piace. Forte del successo riscosso in Spagna, proda per la prima volta in Italia, vicini di casa. Una commedia libera e provocatoria che indaga con divertita leggerezza, inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. In scena Amanda Sandrelli e Gigi Alberti, affiancati da Alessandra Ciaia e Alberto Giusta. Un quartetto affiatato e irresistibile che invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabù. Parliamo un po'. Come si fa ad essere naturali sulla scena, facendo una proposta del genere, immedesimandosi completamente nei personaggi e facendo ridere il pubblico? Poi speriamo di essere naturali, nel senso che, vabbè, no, penso che la cosa bella, appunto che anche se si tratta di sesso, argomento poi sopravvalutato, perché poi il sesso infatti dovrebbe essere preso come una qualsiasi cosa della vita, e infatti la cosa bella è che questa coppia lo prende come una cosa qualsiasi, cioè noi arriviamo in questa casa e raccontiamo le regole, diciamo, dello scambio di coppia, come se fosse il burraco. Quindi lo raccontiamo in maniera molto... Per noi che sia il burraco questo è un divertimento, è una cosa che noi facciamo con grande naturalezza, con grande spontaneità, quindi la cosa che mi piace molto è che poi alla fine un po' i pazzi sembrano loro, cioè noi sembriamo un po' più assennati e come per dire, noi rimaniamo anche stupiti a volte delle reazioni, perché per noi è una cosa assolutamente naturale, anche perché noi arriviamo in questa casa, infatti noi nominiamo i vicini del piano di sotto, che sono invece bacchettoni, strani, tristi, eccetera, e diciamo a loro non lo diremo mai, perché comunque loro lanciano dei segnali. Lui, Giulio, in ascensore mi guarda il seno, quindi comunque è come un invito, e per me è normale, cioè se uno mi guarda il seno, mi desidera, per me è normale dire ok, allora facciamo, e Amanda, vista dalla finestra da lui, cammina nuda per casa. E quindi chiaramente sono, cosa? Non spoilerate. No, vabbè, però, tanto dicono che... E gli spettatori devono. Tanto è, invece invoglia. Quindi è una cosa che è come avere dei segnali, quindi noi non arriviamo come dei pazzi assatanati che dicono andiamo lì e facciamo, noi arriviamo perché ci piacciono, perché sono belli, perché per noi è una cosa normale, è come dire venite a giocare a burraco con noi. E quindi sono loro che reagiscono in maniera... Noi siamo la coppia un po' più... Basta, sto parlando troppo, scusate. Anna e Giulio, che vivono insieme da vent'anni, hanno dovuto rinunciare ai loro sogni. Lui ha quello di fare il musicista e lei ha di avere un secondo figlio. Proprio queste rinunce hanno fatto scivolare la coppia di mezza età verso una convivenza precaria. Laura e Toni, più giovani e spregiudicati, riescono con il loro atteggiamento disinibito, considerato incivile da Giulio ma invidiato da Anna, a scuotere il torpore che ormai si era impossessato della loro vita coniugale. Laura è una psicologa e Toni è un pompiere. Questa commedia riverente, che presenta però Tratti amari, segna il debutto teatrale di Sesc Gay. Adesso parliamo della scena più difficile. Qual è il pezzo più difficile dello spettacolo che magari all'inizio vi ha un po' preoccupato? Quando si legge un copione uno si fa un'idea. Qual è il pezzo magari più difficile? Beh, credo appunto la cosa bella di questo testo è che non è così banale come può sembrare raccontarlo. Insomma, ecco, la coppia, già quello che diceva Alessandra, cioè il fatto che noi non siamo una coppia bacchettona, rigida, che reagisce, no? Quindi è proprio quello che è divertente, che effettivamente parlando, entrando nel merito, tutto diventa complicato. Quando ho letto il testo la parte più difficile è quella di Alessandra per me, cioè il momento in cui diventa leggermente più serio e si entra in un terreno più psicologico, infatti lei fa la psicanalista, è sicuramente la parte più rischiosa del testo, cioè quella che rischia di scendere. Però, insomma, brava lei, bravo il nostro regista Antonio Zavatteri. Bravi tutti. Bravi tutti a sostenerla, però ecco, se c'è un punto più delicato è quello. E adesso parliamo delle tre ragioni per vedere questo spettacolo. Chi ce le dice? Costa poco, no, è uno spettacolo dove si ride tanto, in maniera non stupida, sono già due, si ride tanto in maniera non stupida, costa poco, tre. Ed è già fatto. La frase è più, è la quarta, sentiamo la quarta? Dura il giusto. Dura il giusto, quindi non ci sia annoia, venite a teatro. E adesso parliamo invece, la frase più bella, per gli telespettatori che magari vogliono la frase dello spettacolo, che magari rimane in mente, qual è? Io ce l'ho, quella che dice lui. È difficile sopportare se stessi. La quotidianità è complicata, è difficile sopportare se stessi. Per me questa è la battuta più bella dello spettacolo. La battuta più bella è difficile. Mi dispiace, però... È difficile sopportare se stessi, voi vi sosportate? Io direi, fate una pensatina, guardate questo spettacolo, perché ne vale veramente la pena. Grazie mille di essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Vive il teatro! Ciao Dietro le Quinte, venite a vedere lo spettacolo perché vi divertirete. Lunga vita al bel teatro. Ciao a Dietro le Quinte e venite giovani, venite a teatro giovani. Giorgio Marchesi qui al Teatro Van Vesterotto di Mola, con il Fumati a Pasquale. Allora, raccontaci di questa messa in scena che, da quel che si dice in giro, attira molto le nuove generazioni. Beh, è bello che si giri un po' la voce sul teatro. Sì, abbiamo voluto un po', mantenendo il testo di Pirandello, assolutamente originale, l'abbiamo, come dire, un po' nella messa in scena cercato di portare più ai tempi nostri, abbiamo traslato la storia che è esattamente di 120 anni fa, perché del 1904 l'abbiamo trascinato un po' su tutto il Novecento con il maestro Raffaele Toninelli che fa musiche anche contemporanee diverse e gli abbiamo dato un po' di, come dire, di verve in più, soprattutto cercando di recuperare sia l'ironia del testo che anche il cinismo di Pirandello, più che la parte drammatica che ovviamente c'è, ma che delle volte, insomma, uno ricorda più quella e non il resto, mentre Pirandello è molto di più. Parlaci un po' della scena della discoteca, perché non ci crederete, ma qui c'è una scena dove è ambientata in discoteca. Beh, rappresenta, siccome in un certo punto lui deve scegliere di essere qualcun altro, allora comincia a ipotizzare la sua possibile altra identità, quello che tra l'altro molti fanno anche sui social, no? Noi tutti quanti fondamentalmente ogni giorno decidiamo di essere qualcosa che non siamo esattamente noi, perché mettiamo i filtri, perché scriviamo diverse cose che non si sa mai se sono vere o false. E lui deve semplicemente inventarsi un'altra storia. E quindi per condensare questo che sono tante pagine di libro, abbiamo messo una musica house e abbiamo, come dire, fatto un bigname di tutte le sue ipotesi, dove sono nato, dove vivo, chi erano i miei genitori, come faccio a dimostrare il fatto che i miei genitori non ci sono, allora sono cresciuto col nonno, insomma fa diverse ipotesi e gli abbiamo dato un po' di musica house per dargli un bel po' di ritmo. Un po' di verbo in più. Che cosa c'è in comune con questo personaggio, se c'è? Beh, un po' l'idea della fuga credo che sia un po' quella di tutti quanti, no? Ogni tanto tutti vorremmo andare via da tutto quello che è il nostro passato e magari quello che caratterizza la nostra vita, soprattutto quando magari abbiamo dei problemi, ma delle volte non soltanto quello, semplicemente il desiderio di evadere, di fare qualcosa che forse ci piacerebbe di più. Bisogna vedere poi se quando cambi vita poi veramente questa non ti stanca anche quella e quindi vuoi ritornare indietro, quello che accade appunto a Mattia Pascal. Quindi l'idea della fuga, l'idea dell'evasione, credo che sia abbastanza comune in tutti quanti. La voglia ogni tanto di essere qualcos'altro e qualcun altro. Il profumo di palcoscenico che cosa cambia? Ma tu che cosa preferisci? Beh, il rapporto col pubblico è meraviglioso e ogni sera lo spettacolo è diverso perché siamo diversi noi in scena e perché entriamo in comunicazione col pubblico direttamente. Ovviamente quando invece facciamo qualcosa di audiovisivo, noi facciamo un lavoro e poi il materiale è in mano ai montatori, ai registi e lo vediamo poi in un seguito, ma non abbiamo questo controllo vero di quello che accade. E l'altro grande piacere è uscire dal teatro e sentire i commenti delle persone e avere anche la possibilità di incontrarle perché se no appunto il nostro è un rapporto a distanza attraverso uno schermo che è quello della televisione e quindi poi si intuisci se il lavoro che hai fatto è piaciuto o non è piaciuto, però il rapporto diretto con le persone è sicuramente unico. Dopo il Fumatia Pascal in che cosa ti vedremo a teatro? A teatro, io ho fatto un altro lavoro quest'estate che girerà l'anno prossimo, che si intitola The Three Kings, che è un testo inglese interessante sul rapporto padre-figlio, molto molto interessante anche in riferimento all'educazione, come sta cambiando l'educazione oggi, l'idea magari di alcune generazioni precedenti che avevano determinati valori, determinati miti, l'idea di avere dei figli forti, vincenti e poi anche la fascinazione verso chi ci fa del male ma poi sono legami che uno non riesce a togliersi, per cui tante tante cose. Quindi The Three Kings che girerà l'anno prossimo e poi un po' di lavori televisivi che usciranno quest'anno. Grazie mille di essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un abbraccio a tutti per Dietro le Quinte e soprattutto vi aspettiamo a teatro, che sia questo spettacolo che siano altri, ma continuate a uscire di casa e a prendere qualche rischio e ad emozionarvi. E con questo è tutto per rivedere tutte le puntate www.dietrolequinte.tv.com e per le vostre segnalazioni info-chioccia di www.dietrolequinte.tv.com Arrivederci alla prossima puntata.